Su un servizio di 130 autobus l'altro giorno si è arrivato al paradosso, soltanto 90 mezzi in giro a causa del blocco delle forniture del gasolio, per tutto quello che si è discusso. Oltre ai ricambi abbiamo purtroppo un'officina più soleta come struttura, abbiamo la necessità e l'impellenza di andare nella nuova officina a Pantano Tarci e rilanciare l'azienda con i mezzi e il personale che abbiamo sicuramente riusciamo. Dobbiamo prestare solo sul comune e la regione. Lo sciopero a questo punto lo riteniamo indispensabile, perché praticamente in tutte le riunioni che abbiamo avuto siamo usciti sempre con la mare in bocca, perché nessuno sa niente, è incredibile che nessuno sa la situazione dell'AMT di Catania. Comunque vadano le cose, non si può gestire un'azienda senza soldi. Nel momento l'azienda AMT è crollata, abbiamo evidenziato tutte le aziende sindacali, la CGL Cisruvillo, la CGL Cisalle, alla Commissione Trasporti, che bisogna fare un intervento immediato affinché questa situazione esca, soprattutto la verità, di un'azienda che fino a ieri diceva cose inesatte.